Sigilia 2 e fabbricati abusivi in corso d'opera nell'agro del comune di Poggiorsini con trada garagnone ai piedi del famoso castello, area ricadente nella zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in zona di protezione speciale. Il personale del comando stazione Parco di Gravine in Puglia del Corpo Forestale dello Stato ha accertato i lavori di demolizione e costruzione di un fabbricato a piano rialzato della superficie di 72 metri quadri adiacente all'esistente antica masseria Melodia e la costruzione di un nuovo fabbricato a piano terra di circa 477 metri quadri adiacente collegato alla parte demolita e costruita. I due fabbricati sono stati realizzati in assenza del permesso di costruire dell'autorizzazione dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dell'autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza. Tra le inadempienze figura anche l'omesso deposito dei calcoli statistici presso l'ufficio competente provinciale di Bari. Due le persone in qualità di comproprietari deferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per violazione delle norme in materia edilizio urbanistica e paesaggistica.